Amici del blog isegretidimatilde.com, sono venuta a trovare Atinè, siamo a Teheran, ma siamo a 2000 metri di altezza in un punto molto panoramico dove potete vedere una città bellissima, noi siamo in un punto veramente che sovrasta alle spalle ci sono le montagne, le montagne Alborz e io adesso voglio parlare con Atinè che è qui, che mi ha accolto e ci ha ospitato come si chiama a questo punto dove siamo? Si chiama il tetto di Teheran e proprio siamo dove possiamo vedere tutta la città ai nostri piedi e poi come potete anche vedere voi sono veramente molto felice che Simona è venuta a trovarmi nella mia città nella mia città! E pensate che qui siamo davvero tanto alti per cui le persone c'è una funivia che porta fino a 3000 metri e gli iraniani vengono a sciare, vero? Verissimo! Ora noi non siamo attrezzate però magari chissà la prossima volta riusciremo anche ad arrampicarci fino in cima. Allora l'invito è per venire a Teheran? Certo! Potete venire e vedere con i propri occhi come è bello questo! Ciao! Ciao!